Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con il giornale radiolocale. Elezioni politiche in provincia di Latina si sono recati ai seggi il 61% degli aventi diritto, dato decisamente in calo di oltre 11 punti percentuali rispetto alle elezioni analoghe del 2018. Le affluenze più basse per quanto riguarda i territori del sud pontino sono stati registrati sulle isole di Ponza e Ventotene, che hanno fatto registrare rispettivamente il 37,5% e il 49,5% dell'affluenza. A seguire sulla terraferma Gaeta con poco più del 54%, gli altri centri in media hanno fatto registrare cifre comprese tra il 56% e il 63%. Percentuale bassa anche nel Cassinate. Se prendiamo ad esempio il capoluogo di provincia, a Cassino ha votato poco più del 61% degli aventi diritto, con un calo di oltre il 13% dei votanti rispetto al 2018. Risultati elettorali per quanto riguarda le elezioni politiche chiari fin dall'inizio dello spoglio, iniziato alla chiusura dei seggi. Anche nel territorio del Lazio Sud, ampio successo della coalizione di destra, che ha la Camera raccolto nel Collegio di Terracina circa il 54% dei consensi, portando all'elezione diretta di Nicola Ottaviani. Staccatissimo il centrosinistra a fermo al 18%, più dietro il Movimento 5 Stelle al 17% e il Terzo Polo al 6%. Percentuali praticamente identiche anche al Senato, dove il seggio di Latina Frosinone è stato conquistato da Claudio Fazzone, attesa per il conteggio nazionale per conoscere gli altri eletti dei collegi plurinominali anche nel territorio del Sud Pontino. Allerta meteo per quest'oggi sul Lazio, in particolar modo sui bacini costieri sud. L'allerta diffusa nella giornata di ieri dalla Protezione Civile è ancora legata a quella arancione che era stata diffusa per la giornata di domenica. Ancora pioggia per quest'oggi con possibili temporali, ma l'allerta è gialla e lo sarà fino a questa sera. Riguarda anche il livello idraulico dopo la tanta pioggia che è caduta nella giornata di ieri. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, addirittura ha fatto alcune dirette sui social per parlare dello stato del canale del torrente Pontone, del rischio esondazione che fortunatamente non c'è stato. Ascoltiamo insieme le parole del primo cittadino. La situazione è abbastanza stabile, le viogge per il momento sono abbastanza niti e siamo comunque sul pezzo nel monitoraggio non solo di tutte le aree circostanti del torrente Pontone che sono quelle più critiche ovviamente e sulle quali abbiamo emanato l'ordinanza ieri sera per la pronta evacuazione laddove ci dovessero essere i presupposti. Da Fondio a Formia per regarsi al centro commerciale avvia il navigatore satellitare, ma questo indica una strada errata. È iniziata così la disavventura per una donna di 46 anni che sabato intorno alle 20.30 ha imboccato via del Redentore prima di perdere il controllo dell'auto e finire in un dirupo. La telefonata al 113 l'ha collegata al commissariato di Formia dove gli agenti, malgrado le poche informazioni, hanno subito compreso dove potesse trovarsi la donna bloccata nell'auto precipitata. Nel giro di circa un'ora proprio la 46enne è stata tratta in salvo, in evidente stato confusionale dovuto allo shock del sinistro. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.